Torna la vaccinazione contro il Covid-19. Sono arrivate in Toscana, infatti, le prime 34.500 dosi. Le vaccinazioni partiranno dal lunedì 2 ottobre e già da oggi sono aperte le prenotazioni sul portale regionale. Vi potranno accedere i soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori che siano da 6 mesi a 59 anni e assieme al vaccino Covid a chi è interessato sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale. Dalla lunedì parte la vaccinazione degli ospiti dell'RSA. Dal 12 ottobre dosi anche per gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private e anche per le donne in gravidanza e i caregiver dei soggetti fragili. Dal 16 ottobre, infine, saranno i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta a poter somministrare il vaccino agli over 60 o a coloro che rientrano nell'elenco dei soggetti a cui il ministero ha raccomandato la vaccinazione.